La norma dice che in generale il tampone deve essere pagato dal lavoratore ma non esclude che possa essere pagato da qualcun altro, quindi lascia libertà e lo trovo assolutamente giusto perché anche se oggi ci è venuto in aiuto un articolo dell'ultimo decreto dell'8 ottobre che dice che per specifica esigenza organizzativa un'impresa può chiedere l'esistenza o meno del Green Pass ad un lavoratore, per un periodo sufficiente a rispondere a questa esigenza e quindi volendo io posso anche chiedere da qua un mese chi ha il Green Pass e chi non ce l'ha. Il problema è che non dice la legge cosa succede se un lavoratore non mi risponde, quindi siamo sempre da capo, si tenta di aiutare ma poi si stenta a mettere delle sanzioni per far sì che la regola venga rispettata. Il datore di lavoro deve controllare chiunque entri in azienda, italiano, straniero, dipendente, diretto, indiretto. Lo faremo, ci mancherebbe altro, però siamo in una situazione che ha dell'assurdo perché ci troviamo nella situazione in cui la tutela della privacy porta ad avere una organizzazione aggiuntiva che è priva di logica per le imprese. L'ultima cosa che voglio ribadire è calma, non è colpa di nessuno questa pandemia, le aziende hanno difficoltà, i lavoratori vaccinati ne hanno altre, i lavoratori non vaccinati, che anche per motivi magari giustificabili, non si sono vaccinati, hanno le loro motivazioni. Siamo tutti sulla stessa barca, cerchiamo di mantenere questa consapevolezza.